Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e inoltre vi avviso che è uscito il mio shop, quindi se volete una tazza, una maglietta, una sacca, qualsiasi cosa, trovate tutto nel box informazioni. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che qualcuna di voi mi ha consigliato su Instagram, in direct. È il 29 settembre del 2012, quando il detective Dan Long risponde ad una chiamata d'emergenza dalla periferia di Las Vegas, in Nevada, più precisamente nel quartiere di Summerlin. George T. Fay chiama il 911 per denunciare un'intrusione e un omicidio avvenuti in casa sua. L'uomo infatti dice all'operatore del 911, mia moglie, mia moglie è sul pavimento ed è maledettamente rigida, fredda, non si muove. È a questo punto che vengono allertate le autorità che si affrettano a raggiungere il luogo del delitto. I detective quindi entrano in casa di George e trovano la sua ex moglie, Shona T. Fay, a terra, senza vita. Pare sia stata percosa con un corpo contundente, molto probabilmente un martello. Quella donna è stata colpita così tante volte. In effetti, se pensiamo all'omicidio in sé, ci rendiamo conto che questo è un crimine alquanto frequente. Però solitamente i crimini di tal tipo vengono consumati in modo freddo, distaccato. In questo caso, invece, c'è dell'altro. È evidente che l'assassino, chiunque esso fosse, provava un odio intenso verso la vittima. Girando per casa, le autorità non rilevano segni di furto. Ma soprattutto, non c'è stata alcuna effrazione. La porta non è stata forzata. Questo vuol dire che Shona ha fatto entrare in casa il suo assassino? È lui che ha scoperto il corpo di sua moglie. Ed è lui che ha alertato le autorità. Quindi, potrebbe essere il colpevole? I detective vogliono raccogliere più informazioni possibili, senza però sottoporlo ad un interrogatorio serrato. Il detective Dan Long dunque porta George in un'altra stanza della casa e inizia a fargli qualche domanda. L'investigatore chiede a George. Quanto tempo lei e Shona siete stati sposati? George risponde. Per circa sei anni e mezzo. Poi ci siamo separati. Eravamo separati da cinque mesi. La nostra relazione ha attraversato un periodo di profonda crisi. L'investigatore quindi continua. Senta, so che è una domanda difficile per lei, ma è necessario che risponda. Sa se per caso sua moglie frequentasse altri uomini nell'ultimo periodo o dopo la separazione? George risponde. Beh, non so. In effetti a giugno si comportava come se uscisse con un altro uomo. Ma era un modo per farmi ingelosire, diceva. Non c'era nessun altro. E a dire il vero, io le credevo. Ci eravamo presi una pausa, ma volevamo tornare a vivere assieme. Diceva di amarmi ancora. Volevo che le cose tra noi funzionassero. Ed anche io l'amavo. George inoltre dichiara che nella notte in cui era avvenuto l'omicidio di Shona, lui era in servizio presso la caserma dei vigili del fuoco. Per di più, George non abitava più in quella casa da circa cinque mesi. Certo, poteva andare e venire quando voleva. Gli accordi tra i due erano molto liberi. Perché? Perché avevano anche una bambina, Madison. George dunque spesso e volentieri passava a casa di Shona con la figlia. Soprattutto quando la donna era a lavoro. Però a volte riuscivano addirittura a passare l'intera domenica tutti insieme. I colleghi di lavoro descrivono George come un ottimo elemento. È un uomo molto brillante, intelligente. Giocava a football. Faceva parte di Habitat for Humanity. Un ente benefico che costruisce scuole, case, ospedali per i più bisognosi. Tutti i suoi colleghi prendono esempio da lui. Lo ammirano perché per loro George è un eroe. George però non è l'unico ad essere stimato. Anche Shona gode della stima di tutti. È una donna carismatica, vivace, grintosa e di bell'aspetto. Shona nasce a Salt Lake City, nello Utah, da William L. Thompson e Nancy Ratten. La famiglia rimane nello Utah fino al 1978. Poi si trasferisce a Brumel, in Pennsylvania. Nel 1980 decidono di spostarsi ancora. Si trasferiscono nel nord della Virginia, dove Shona frequenta le scuole medie e le scuole superiori. È una cheerleader, ha molti amici, ama molto leggere e disegnare, soprattutto fiori. Shona si trasferisce a Las Vegas nel 1994 e da 28 anni trova lavoro come venditrice di cosmetici da Sex Fifth Avenue, una catena di grandi magazzini. Poi si sposta da Neiman Marcus, pochi anni dopo cambia settore ed inizia a lavorare come cameriera in un hotel casino a Las Vegas chiamato Fiesta, per poi spostarsi in un altro casino chiamato Palms, dove lavora dal giorno dell'inaugurazione, nel 2011, fino al giorno della sua morte. Shona a Las Vegas è circondata da tanti amici che le vogliono bene. È una donna dolce, simpatica, premurosa, gentile. È solita cucinare cupcake o dolcetti per il compleanno di praticamente tutti i suoi colleghi di lavoro. Adora il locale in cui lavora, il Palms. Cosa che può sembrare strana, insomma un casino non è proprio un ambiente familiare. Inoltre talvolta i clienti allungano anche un po' troppo le mani. Però i colleghi e le colleghe di Shona sono tutti adorabili, vanno tutti d'accordo, si vogliono davvero un gran bene. Anche i clienti, peraltro, adorano Shona, considerando che guadagna circa 100.000 dollari all'anno tra stipendio e mance. George è uno studente brillante, a liceo è una stella del football. Studia e si laurea all'Accademia Militare di West Point, una località nella contea di Orange, nello stato di New York. Per un periodo a parte si stabilisce in alcuni paesi dell'America centrale con Habitat for Humanity. Col fine di costruire case per gli abitanti del posto. Quando si congeda dall'esercito trova lavoro al Palms Casino, come parcheggiatore. È il 2002 ed è a questo punto che conosce Shona. Tra i due è Amo e la prima vista, si mettono insieme e, dopo un anno, nel 2003 mettono al mondo Madison, loro figlia. I due si sposano il 16 marzo del 2006, ma George non rimane al Palms Casino a lavorare, in quanto ha un sogno. Vuole diventare un pompiere. Quindi, dopo aver frequentato l'Accademia, viene nominato Capitano dei Vigili del Fuoco. George, dunque, è un pompiere. Shona è una cameriera e, insieme, hanno una bellissima bambina di nome Madison. A vederli dall'esterno sembrano la perfetta famiglia americana. I vicini, gli amici, tutti quelli che li conoscono, li dipingono come un vero e proprio modello da seguire. I detective, ben presto, scoprono che George ha un alibi di ferro per la notte in cui Shona è stata uccisa. Infatti, ben 35 pompieri dichiarano che George, quella sera, non ha mai lasciato la caserma. Lo avrebbe fatto solo in caso di intervento e con un collega. Non c'è alcun dubbio. Non può essere stato George a uccidere Shona. Gli investigatori, a questo punto, si concentrano su uno spunto fornito da George. Ossia l'ipotesi che Shona frequentasse qualcuno. Tuttavia, non emergono prove circa una relazione segreta. Questo caso è particolarmente difficile perché pare che l'assassino sia un estraneo. Quando non esiste alcun legame tra la vittima e l'omicida, per gli investigatori è di gran lunga più complicato riuscire ad identificare il colpevole. Quindi i detective sanno che li aspetta un'indagine molto lunga. Se non era stato l'ex marito a colpire Shona, chi altro poteva avere un movente valido per ucciderla? Chi covava un odio così profondo verso questa donna da colpirla con un martello in un modo così tanto brutale? I detective non sanno che fare. Non hanno piste. Fino a quando non spunta fuori una denuncia sporta alla polizia, qualche settimana prima del delitto, proprio da Shona. E dai dettagli di questa denuncia emerge un quadro alquanto allarmante. Sulla denuncia quindi c'è scritto che Shona, tornando da lavoro, nota qualcosa di strano in casa. Nota che c'è qualcosa che non va. Trova un paio di boxer da uomo taglia esse nella lavatrice, che non appartengono al suo ex marito. Poi va in bagno e si accorge che alcuni dei suoi trucchi sono stati aperti. Pare che qualcuno li abbia usati. Andando in cucina e aprendo il frigorifero, nota la sua bottiglia di vodka aperta qualche giorno prima vuota per metà. Il punto è che lei di quella vodka ne aveva bevuto solo un bicchierino qualche giorno prima con una sua amica. Chi diavolo è entrato a casa sua per truccarsi? Infilare un paio di boxer taglia esse nella sua lavatrice? Escolarsi mezza bottiglia della sua vodka? Questa situazione è quantomeno assurda. La prima cosa che fa Shona è chiamare il suo ex marito per domandare se per caso durante la giornata lui e Madison siano stati lì in casa. Shona è già pronta a fare una ramanzina a George. Glielo ripeti in continuazione, Madison non deve toccare i suoi trucchi. Ma George dall'altra coppa del telefono le dice che lui durante quel giorno a casa sua non ci è mai passato. Shona preoccupata controlla se per caso manchi qualcosa in casa. E in effetti qualcosa manca. Shona non riesce più a trovare la sua fede noziale, qualche gioiello e dei vestiti. Qualcuno le aveva rubato dei vestiti eleganti da sera e una parte di un suo costume, più precisamente gli slip. Gli investigatori appresa questa notizia ipotizzano che qualcuno stesse covando una forte ossessione verso Shona. Finalmente si sta delineando un'ipotesi davanti ai loro occhi. Il detective Long inizia a pensare che l'assassino di Shona potrebbe anche essere uno stalker. Ma non si spiega come sia riuscito ad entrare in casa. C'è sempre quel fatto che lo tormenta. La porta di casa non presentava segni di effrazione. I casi dunque sono due. O l'assassino aveva le chiavi o Shona ha fatto entrare in casa il suo assassino. Come diavolo aveva fatto quell'assassino entrare in casa di Shona? Gli investigatori per il momento quindi sostengono che Shona sia morta in casa sua a causa di uno stalker misterioso. Molte persone sapevano che lavoro facesse Shona, ossia la cameriera in un hotel casino. Inoltre insomma Shona era una bella donna, si vestiva elegante e di conseguenza gli uomini erano attratti da lei. Gli investigatori sanno per certo che Shona nella notte tra il 28 e il 29 settembre si è recata a lavoro ed è anche tornata a casa. Iniziano quindi a ipotizzare che questo stalker misterioso possa averla vista e presa di mira proprio a lavoro. Shona è per caso stata inseguita fino a casa da un uomo, un cliente del Palms. I detective sanno che per scoprire qualcosa devono interpellare per forza tutte le cameriere del Palms e i direttori di sala. Shona aveva per caso qualche problema a lavoro? Qualcuno la importunava? Qualcuno forse aveva allungato le mani? La verità è che a lavoro tutti adoravano Shona. Alcuni clienti fissi del locale se non la vedevano chiedevano spesso di lei. Le volevano davvero bene tutti quanti. E' però anche un fatto che Shona avesse inevitabilmente dei contatti con circa un centinaio di clienti diversi ogni sera. C'erano dei turisti, gente del posto, quindi diciamo che quel locale di certo non aveva una clientela fissa e fidelizzata. Le colleghe però, nessuna esclusa, dichiarano di non aver visto Shona nell'ultimo periodo parlare con qualche cliente in particolare, né tantomeno con individui sospetti durante i suoi turni. I detective quindi decidono di esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di eventuali indizi. E in effetti l'ultima notte di Shona nel locale pare essere una delle tante notti. Si vede la donna che attende la fine del suo turno, timbra, ed esce dal casino. Una volta uscita si incammina in una zona sul retro del locale, dove aveva parcheggiato la macchina a inizio turno. Però è strano, perché Shona non aveva parcheggiato nell'area riservata ai dipendenti? Era anche più vicina all'entrata del casino? I detective guardano quel filmato per ore, a ripetizione, ma non trovano nulla di utile. Sono ancora al punto di partenza, in quanto non vedono assolutamente Shona salire in macchina. Semplicemente la vedono sparire dall'inquadratura. Loro, invece, speravano di vederla salire in macchina. Speravano di riuscire a vedere qualcuno che la osservava di nascosto, per poi inseguirla. Il punto è che non vedono nulla del genere. C'è solo Shona che cammina verso il parcheggio del casino, per poi sparire dall'inquadratura. L'auto di Shona, però, viene ritrovata a casa sua. Quindi le autorità sanno per certo che Shona su quella macchina ci è salita e ha guidato fino a casa. Qualcuno la stava inseguendo? Questo i detective non lo sanno. Le autorità, dunque, sono ad un punto morto. Non sanno che pista seguire. E, per due giorni, restano totalmente in alto mare. Non scoprono assolutamente nulla, fino a quando, finalmente, arriva una svolta. Al dipartimento di polizia di Las Vegas arriva una chiamata. E a rispondere è il detective che segue il caso di Shona, Dan Long. Lo sconosciuto dall'altro capo del telefono dice Chiamo per quella donna, quella che hanno ucciso. Io ne so qualcosa di quella donna uccisa a martellate. Appena il detective Long sente martellate, drizza le antennine. In quanto gli unici a conoscere questo dettaglio sono la polizia e l'assassino. È chiaro che questa informazione sconosciuto attiri l'attenzione del detective che, quindi, gli chiede un incontro. L'uomo, a telefono, risponde che vuole incontrarlo. Gli va bene qualsiasi orario e qualsiasi luogo, tranne il suo appartamento. Il detective, quindi, gli propone un incontro nei pressi di casa sua, vicino a un parco, e l'uomo accetta. Il detective Long, dunque, si incontra con l'informatore che si presenta con il nome di Big Will. Il suo vero nome è William Phoenix, è un uomo molto affabile. Dice immediatamente al detective di essere un ex detenuto e di aver instaurato un rapporto molto profondo con Dio. A Big Will piace aiutare le persone ad integrarsi nella società una volta uscita dal carcere. Vive a Las Vegas da anni, lavorando come addetto alla manutenzione in un complesso di appartamenti. L'uomo dichiara, quindi, di aver ricevuto una chiamata alquanto preoccupante da un suo amico. Quell'uomo gli aveva detto «Big Will, aiuto, ho bisogno di parlare con te!» William, di conseguenza, aveva invitato quest'uomo a casa sua. Era un senza tetto e viveva in una tenda, chissà dove. Questo uomo, dunque, era arrivato a casa di Big Will. Si era asseruto sul suo divano, gli aveva chiesto una birra e se l'era scolata tutta quasi d'un fiato, per poi appoggiarla sul tavolino di fronte a sé. Solo a quel punto, quell'uomo aveva parlato a Big Will, dicendogli una cosa terribile. Ho picchiato una donna con un martello, ancora, ancora e ancora, fino ad ucciderla, nella sua bella casa, nella contea di Summerlin. L'ho colpita così a lungo da rompere il martello. Big Will era rimasto senza parole e non sapeva che dire. Aveva guardato quell'uomo e si era reso conto che sembrava felice. Era come se avessi completato una missione per cui sarebbe stato pagato un sacco di soldi. Infatti, l'uomo aveva detto a Big Will Amico, con tutti questi soldi potrò lasciare la città e vivere una vita felice. Il detective a questo punto chiede a Big Will chi sia questo soggetto, chi sia questo ragazzo. Lui lo conosce, no? Dunque saprà anche il suo nome. Big Will però dice che ehi me, il suo vero nome non lo conosce. Conosce solo il suo soprannome, Greyhound. Il detective Long a questo punto chiede a Big Will se può portarlo nella zona in cui è solito girare questo Greyhound. Big Will accetta e in effetti non ci mettono molto tempo per trovarlo. Big Will quindi si ferma e indica al detective Long un ragazzo che si trova dall'altro lato della strada. Il detective a questo punto prova ad avvicinarsi all'uomo con cautela senza farsi sentire si avvicina a lui gli va alle spalle nota addirittura che ha un coltello con sé. Greyhound quindi si gira lentamente e si trova davanti il detective Long. Il detective a questo punto si presenta e gli dice che vuole parlare con lui. Greyhound è già in preda al panico si guarda attorno è chiaro che stia cercando una via di fuga. Il detective Long a questo punto fa un passettino indietro e gli dice no no ascolta devi stare tranquillo perché vorrei solo parlare con te ma vorrei anche non correre rischi. Sei per caso armato? Greyhound risponde sì ho un coltello. Il detective gli chiede con cautela posso controllare? Ebbene con quel controllino il detective non trova solo un coltello ma anche un po' di sostanzine di vario tipo. Greyhound ovviamente si allarma ancora di più. Il detective però gli dice no 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 tranquillo non sono qui per questo bensì per un'indagine vorrei parlarti di un caso che sto seguendo non ti arresterò per detenzione di sostanze quindi ti va di parlare con me? L'uomo a questo punto si calma visibilmente e accetta di parlare col detective Long quindi lo segue al distratto di polizia e si fa interrogare. La prima cosa che gli dice il detective Long è ti chiamano Greyhound a quanto ne so ma qual è il tuo vero nome? L'uomo risponde mi chiamano così perché sono veloce ed il mio vero nome è Noel Stevens ebbene Noel Stevens è un criminale a tutti gli effetti ha una sfilza di reati alle spalle non da poco si vanta di essere un gangster parla al detective Dan Long di alcune rapine che aveva commesso si era guadagnato quel soprannome per la sua capacità di sfuggire sempre agli inseguimenti della polizia è evidente che Noel abbia molto da nascondere quindi il detective gli chiede Noel conosci la famiglia Tia Faye George Shona e loro figlia Madison Noel risponde si li conosco siamo amici conosco bene George Shona e la loro bambina ho insegnato anche a Madison ad andare sullo skateboard ho passato molto tempo con loro quando il detective lo interroga sull'omicidio di Shona Noel risponde che lui con quella storia non c'entra proprio nulla non è coinvolto in quell'omicidio chiaramente le autorità nutrono qualche dubbio su Noel quell'uomo è un tipaccio un criminale e pensarlo a contatto con una bambina come Madison mette i brividi nessuno vorrebbe un soggetto come Noel accanto a sé solitamente ci si tiene bene alla larga da persone come Noel Stevens quindi risulta strano che sia amico della famiglia Tia Faye dato che secondo gli investigatori questa storia puzza e non poco decidono di trattenere Noel mentre continuano a indagare devono capire se c'è davvero un legame tra Shona George e Noel quindi i detective vanno da George per porgergli alcune domande bussano alla sua porta gli mostrano una foto di Noel e gli chiedono lei conosce questo uomo? George risponde ma certo che lo conosco i detective sono straniti quindi chiedono a George se possono entrare in casa per fargli alcune domande George non ha alcun problema quindi li invita ad entrare George dice ai detective riguardo Noel faceva il giardiniere era sempre in cerca di lavoro qua intorno quindi siamo diventati amici ogni tanto gli chiedevo di fare qualche lavoretto in casa o in giardino aveva un buon rapporto con Shona la considerava una sorella eravamo molto legati avrebbe fatto qualsiasi cosa per noi quindi secondo la versione di George Noel è un tipo molto affabile è sempre stato molto gentile con sua moglie e aveva insegnato a sua figlia Madison ad andare sullo skateboard il detective Long ascolta ciò che ha da dire George e poi gli chiede senta ma pensa che sarebbe stato capace di uccidere brutalmente Shona? George ovviamente risponde immediatamente senza esitare no assolutamente no era un amico fidato i detective a questo punto scoprono che Shona non conosceva affatto il passato di Noel l'uomo non le aveva mai raccontato di essere stato in prigione dati i fatti viene spiccato un mandato di perquisizione per la residenza di Noel ossia una tenda in mezzo a un campo desolato quello in realtà è un canyon molto ampio e sono necessari 20 uomini per perlustrarlo tutto e con attenzione oltre ai detective sul posto è presente anche la scientifica nel campo in cui Noel risiede i detective trovano una maschera da sci un cappellino nero dei guanti neri e lo slip di un costume da bagno quello slip è una parte di un costume di Shona cercando più a fondo la polizia trova altri due oggetti un pesante martello e un paio di jeans insanguinati dai test effettuati sul posto il sangue rilevato risulta essere sangue umano quello su quei jeans è il sangue di Shona la scientifica documenta tutto la località le prove scattano diverse foto e alla fine di quella perquisizione le autorità non possono che essere soddisfatte del lavoro svolto con tutte quelle prove che hanno raccolto hanno una sicurezza il colpevole e Noel Stevens non può essere stato nessun altro a uccidere Shona la polizia dunque torna in centrale e Noel è ancora lì non l'hanno mai rilasciato quindi ci mettono ben poco a mostrargli le nuove prove raccolte davanti alle foto del campo in cui viveva e dei jeans insanguinati trovati proprio in quel campo Noel scatta ed esclama cazzo mi ha tradito il detective Long gli domanda Noel chi ti ha tradito Noel risponde senta sono stato io sono io il colpevole sono entrato in casa sua e ho aspettato al buio che rientrasse da lavoro Noel racconta tutto con queste parole ho sentito Shona rientrare a casa dalla porta sul retro l'ho vista arrivare sul corridoio a quel punto sono uscito dall'ombra mi sono avvicinato a lei da dietro poi l'ho colpita col martello mirando alla testa Shona si è girata ha alzato le braccia davanti al viso ed io ho iniziato a colpirla ripetutamente credo di averla colpita per circa dieci minuti di fila fino a toglierle la vita la descrizione del delitto di Noel corrisponde ai dettagli della scena del crimine poi però Noel confessa qualcosa altro qualcosa di inaspettato infatti Noel incrocia le braccia e di nuovo ripete mi ha tradito il detective gli chiede nuovamente chi ti ha tradito Noel Noel ribatte George mi ha incastrato è stata una sua idea ci ha impiegato dei mesi per convincermi a uccidere sua moglie è stato lui ad architettare il piano capito? mi aveva raccontato che Shona frequentava un altro uomo e che aveva intenzione di chiedere il divorzio magari ottenendo una consistente somma di denaro oltre all'affidamento della figlia George mi ha messo sotto il naso sui 100 dollari come anticipo e la promessa di riceverne migliaia se avesse attuato il piano insomma siamo anche andati a far la spesa insieme il detective lo ferma e gli dice spesa? quale spesa? Noel ribatte beh per il delitto chiaramente siamo andati insieme a comprare le cose che ci servivano ossia dei guanti un coltello una maschera un martello inoltre è stato George a darmi le chiavi di casa e in quel modo che sono entrato con le chiavi a questo punto il detective si chiede se Noel stia raccontando la verità o stia cercando di scolparsi in qualche modo in questo caso i detective stanno con sicurezza che Noel Stevens è l'assassino i detective a questo punto decidono di rivolgersi alla sorella di Shona Paula per capire cosa si cieli dietro la maschera dello stimato vigile del fuoco Paula consiglia ai detective di non farsi ingannare dalle apparenze infatti secondo la sorella di Shona George si era iniziato a comportare in modo strano ben un anno prima dell'omicidio nello specifico ha iniziato ad avere degli sbalzi d'umore davvero preoccupanti repentini due secondi prima era tranquillo due secondi dopo iniziava a insultare Shona le dava della poco di buono per come si vestiva per andare a lavoro e quel tempo George non aveva fatto altro che peggiorare tanto che durante un'accesa discussione le aveva messo le mani intorno al collo e l'aveva sbattuta contro il muro continuava ad urlarle in faccia e tutto questo era accaduto davanti a loro figlia Madison però Paula non si limita a raccontare solo questo ai detective c'è dell'altro infatti sostiene che tra sua sorella e George c'era qualcosa che aveva mandato in crisi il matrimonio ed era la presenza quasi costante di Noel Stevens a casa loro la verità è che Shona era terrorizzata da Noel chiamava spesso sua madre in lacrime perché George lo invitava continuamente a casa insieme bevevano birra fumavano ma c'è dell'altro perché George obbligava Madison sua figlia a stare con loro George non voleva che Shona portasse Madison al piano di sopra in camera sua no George voleva che Madison rimanesse lì con lui e il suo amico Shona era molto preoccupata e non capiva perché suo marito invitasse questo tizio a casa in continuazione inizialmente l'aveva assunto per fare qualche lavoretto in giardino e già non le andava a genio ma ora se lo ritrovava perennemente spaparanzato sul divano del soggiorno ogni volta che suo marito non era a lavoro Noel era a casa sua dopo aver sentito la versione di Paula i detective sicuramente riescono a vedere la situazione da un'altra prospettiva ma continuano a non esserci prove per incastrare George gli elementi di cui dispone la polizia sono solo sufficienti per incastrare Noel Stevens fino a quando le autorità non riescono a recuperare un filmato di videosorveglianza che riprende sia Noel che George fare la spesa per il delitto si vede chiaramente che insieme comprano un martello dei guanti un cappellino nero poi se ne escono dal negozio ridendo e scherzando quindi la mente dell'omicidio è davvero George a questo punto le autorità credono di sì ma devono riuscire a dimostrarlo quel filmato lo sanno non è sufficiente hanno bisogno di una prova inconfutabile è così che decidono di mettere il telefono di George sotto controllo nello stesso giorno detective Long fa visita alla famiglia di George incontra sua madre e sua sorella va lì solo per sentire che cosa hanno da dire su di lui con la speranza di raccogliere ulteriori informazioni però la madre di George dice al detective ma George è un pompiere è un eroe lui salva le persone il detective a questo punto la guarda e le dice signora George è fortemente sospettato di aver ucciso Shona lo arresterò al più presto la madre di George si gela non sa cosa dire rimane senza parole il detective quindi si congede e decide di andarsene si dirige quindi in macchina per tornare in ufficio intanto pochi minuti più tardi gli agenti addetti alle intercettazioni ascoltano una chiamata della sorella di George che lo avvisa dell'imminente arresto poco dopo il detective Long riceve una notizia inquietante George si era schiantato ad una velocità folle contro un muro di cemento George tenta di uccidersi perché non sopporta l'idea di perdere la sua reputazione da grande uomo da eroe preferisce morire piuttosto che finire in carcere George però non muore riesce a sopravvivere perché si era messo le cinture di sicurezza alla fine viene arrestato sul letto d'ospedale durante il processo Noelle Stevens accetta di testimoniare contro George e per la sua collaborazione viene condannato all'ergastolo invece che alla pena di morte Noelle alla sbarra ammette di essere stato lui a far irruzione a casa di Shona poche settimane prima del delitto ovviamente era stato George a chiederglielo dicendogli di farla sembrare una rapina quindi Noelle si era introdotto a casa di Shona aveva aperto il frigorifero con tutta calma bevendosi mezza bottiglia di vodka poi tutto alle grotto si era spostato in bagno aprendo a casaccio i trucchi di Shona aveva infilato in lavatrice un paio di suoi boxer e infine aveva cercato qualcosa da portare via trovando una fede nuziale e qualche gioiello infine Noelle aveva anche aperto l'armadio rubando qualche vestito di Shona e una parte di un suo costume da bagno poi semplicemente se ne era andato chiudendo la porta di casa dietro di sé con la chiave che gli aveva fornito George Noelle a processo racconta perfettamente come è andato l'omicidio per filo e per segno e lo fa in una maniera così distaccata che quasi mette i brividi poi di colpo cambia si trasforma appare dispiaciuto e mormora questo omicidio me l'ha fatto commettere George a me non sarebbe mai saltato in mente di fare una cosa del genere mi ha promesso dei soldi la giuria si ritira per deliberare dopo tre giorni ammette il verdetto George è colpevole di omicidio di primo grado viene condannato al carcere a vita senza il beneficio della condizionale detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se per caso questo caso è stato di vostro gradimento lo conoscevate fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi mi raccomando